Oggi la campagna vaccinale parte da qui, siamo in via Gagarin all'ex Ristò ed è qui che vengono effettuate le vaccinazioni agli over 80. Era il giorno dei richiami per gli over 80, cambio di sede avvenuto per la città di Pesaro che d'ora in avanti vedrà la popolazione vaccinarsi all'ex Ristò, il ristorante chiuso da tempo all'interno dell'Iperconad. Un locale di 1200 metri quadrati dove nel primo giorno di somministrazioni tutto è filato liscio, regolati gli ingressi in entrata e in uscita, gli operatori sanitari hanno iniziato alle 8.30, misurazione della temperatura all'ingresso e poi via con la seconda dose. All'interno 10 postazioni vaccinali che permetteranno di accelerare i ritmi da ora in avanti saranno effettuate circa 800 somministrazioni giornaliere che arriveranno a 1500 quando i vaccini saranno a disposizione senza limiti. Soddisfatti gli ultraottantenni che in questa prima mattinata hanno sottolineato l'efficienza non solo della macchina organizzativa ma anche dello stesso locale molto più capiente rispetto al centro sociale Monaldi. E' andata bene, anche la prima che ho fatto mi è andata molto bene, se andasse a quella di oggi bene sarei contenta. Molto molto comodo e molto bene. Benissimo, è andato tutto bene e svelto, veloce, veloce. Sono stati bravi? Sì, sì. Ha trovato questo centro funzionale? Molto, 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 molto di più questo. Eccezionale come velocità, correttezza e cortesia. Ah, molto svelto oggi, molto svelto. E l'altra volta abbiamo aspettato dalle 6 alle 9, siamo andati a casa, della sera. E' stato un intervisto? Invece qua è andata? Eh, adesso io, ho fatto subito. No, guarda, sono bravi, educati e molto certi. Rispetto al sito precedente del Monaldi, sicuramente da oggi riusciamo ad avere un'organizzazione decisamente migliore e a dare anche agli utenti una situazione più confortevole. Siamo contenti di poter dare una mano con i nostri volontari in supporto a tutto il personale sanitario a livello logistico e organizzativo.